Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro video del trappolone. Oggi parleremo di come mixare la voce in 5 minuti. E per fare questo utilizzeremo un plugin che ho scoperto da pochi giorni che si chiama Nectar 3, dell'Izotop. Allora, che cos'è praticamente questo Nectar? In pratica non è nient'altro che un plugin che analizza la nostra traccia vocale e la processa in modo che sia molto più ascoltabile e mixabile. Quindi diciamo che io stesso, quando appunto ho letto la premessa e ho visto un po' come funzionava, ho pensato che probabilmente non era proprio granché per un professionista, perché vabbè, suona come una cosa molto automatica e robotica, però poi giocandoci ho visto che in realtà dà molto controllo su quello che fa, ovvero diciamo che lui analizza la traccia e poi ci permette comunque di cambiare tutti i settaggi che ha applicato e per questo diciamo che quello che lui applica potremmo prenderlo come un suggerimento. Quindi, vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, ve lo faccio vedere. Per questo video ho scelto una sessione di un brano che si chiama Stars, un brano che trovate nell'EP di una band che ho prodotto recentemente, che si chiamano One More A, che vi consiglio di ascoltare e ovviamente vi metto il link del disco in descrizione. Vi faccio un attimo sentire l'inizio della canzone e la strofa e poi andremo un po' a esaminare il plug-in per capire come funziona e come ci permette di rendere la voce molto più mixabile quando abbiamo fretta. Grazie a tutti. Ok, va bene, io qui in pratica sulla sessione ho lasciato tutto come avevo impostato il mix, però ho tolto tutti i plug-in, tutto il trattamento che ho fatto sulla voce, quindi state sentendo praticamente il mix completo con la voce non processata. Quindi adesso questa è la traccia di voce, andremo a caricare appunto il nostro iZotop Nectar e vediamo come funziona. Quindi allora diciamo che la funzione che è quella di cui parlavo, che accelera il nostro processo di mixing e di processamento della voce, è la funzione Assist. Quindi clicchiamo qui, Next, e qui già ci permette di prendere delle decisioni prima che l'analisi abbia inizio. Per esempio vibes fondamentalmente ci permette di decidere un po' il contesto. Io preferirei vintage perché questo pezzo per me è un vibe un po' retro, nemmeno troppo, però sono un amante dei suoni retro e quindi partirei da vintage così a istinto. Intensity invece ci fa decidere quanto sarà brusco il processamento che questo plug-in andrà a effettuare. Quindi leggero, moderato o aggressivo. Io partirei da moderato e vediamo che succede. Un'altra che premiamo Next ci chiede di riprodurre l'audio in modo che lui può ascoltare la take di voce e può iniziare a calcolare cos'è che ritiene necessario applicare sulla traccia. Quindi io parto dalla strofa, premo play e vediamo cosa fa. Ok, adesso ho finito l'analisi e in pratica ho fatto un sacco di cose che sono poco chiare, però vediamo e diciamo che una volta lette tutte queste cose, almeno io la prima volta sono andato nel panico, ho detto vabbè adesso farò un sacco di cose, io non ho idea di cosa abbia fatto, quindi speriamo bene. E invece no, perché una volta che si va avanti in realtà ci fa vedere tutta la catena che ha aperto, eccola, qui vedete tutto quello che ha aperto e ci spiega pure abbastanza bene quello che ha fatto. Quindi partiamo dal primo elemento della catena, il pitch. Ok, come potete vedere per esempio in questo caso, e non so se fa così a seconda del caso, però fondamentalmente non ha applicato pitch correction. Come potete vedere la correction è spenta, si accenderebbe così in caso. Gate, niente, non ho applicato nessun gate, probabilmente perché la voce che ho registrato era ben isolata, ok, però in ogni caso è possibile accenderlo se si regola necessario. Primo equalizzatore che ho utilizzato e questo l'ha acceso, e fondamentalmente ho applicato un po' una, due, tre, quattro, cinque, direi quattro, perché questa mi sembra che non stia facendo niente. Quindi ho applicato quattro bande in cui ha sottratto delle frequenze, quindi l'equalizzazione sottrattiva. Immagino che ha sottratto queste frequenze per aumentare la chiarezza e probabilmente per eliminare qualche risonanza. Poi, de-esser, ha applicato un po' di de-esser, e qui noto un'altra cosa molto utile del plugin. Quando sentiamo il de-esser, possiamo, se clicchiamo qui sull'Estan, possiamo ascoltare esattamente quello che il de-esser sta tagliando. Quindi, ve lo faccio sentire. Magari mettiamo la voce in solo. Vedete, vi fa sentire che ha tagliato solo S e comunque solo Sibilanti. E vi faccio vedere, se io lo porto giù... Quindi, vedete che effettivamente se porto giù la soglia si cominciano a sentire parole che vengono tagliate. Quindi, l'ha utilizzato in maniera molto poco invadente, secondo me. Adesso non mi ricordo com'era settato. Risettiamo l'orecchio. Vabbè, più o meno penso che era qui, intorno ai meno 6 di soglia. Quindi, diciamo che il de-esser effettivamente è stato settato molto bene. Oltretutto, è molto semplice da controllare e settare. Vediamo il prossimo step della catena. Ok. Qui ha applicato una nuova equalizzazione, dove mi sembra che ha portato sopra un po' di medio-basse. Sì, un po' di 400 Hz, un po'... Ah, un po' di 2000 Hz. Quindi ha portato su un po' di medio-basse, un po' di medio-alte e ha tagliato un po' gli estremi. Questo step che applica, in genere, è... Se vi ricordate, quando abbiamo deciso come vibe vintage, ho visto che se invece scegliete modern, tende ad aggiungere molta aria. Quindi, diciamo che, piuttosto che portare su queste medie in questo modo, tende a portare su frequenze più verso le medio-alte e le altissime. Quindi una roba tipo così. Quindi diciamo che, ecco, anche questo è utile capire che, a seconda del vibe che scegliamo, come applica gli interventi. Poi ho applicato un compressore. Vediamo come lavora. Allora, anche qui, molto utile, perché ci fa vedere sia l'onda non compressa, sia come sta lavorando l'onda di compressione, e anche qui, ovviamente, possiamo cambiare tutto quello che vogliamo. Quindi, compressore abbastanza... Oltretutto settato abbastanza educatamente. 100 millisecondi di release, 20 millisecondi di attacco. Quindi, un settaggio anche simile a quello che sarei andato a fare io. Rage o non riesco a capire se ha... Ah, perché sulla funzione optical. Quindi, diciamo, ho applicato un compressore un po' simile a un LA-2A, quindi abbastanza gentile. Immagino che anche qui, in caso avessi scelto modern come vibe, avremmo avuto una compressione molto più brusca. Poi, altro step è la catena. Un riverbero. E, oltretutto, tagliato... Tagliato molto ai lati. Questa cosa mi piace. Quindi è una cosa veramente molto simile a quella che avrei fatto io. DK, 1.80, forse un po' troppo. Io, in genere, preferisco, per questo tipo di cose, uno slabback, quindi un delay. Però, tutto sommato, mi piace quello che ha fatto. Non mi lamento. Considerando che ci ha messo 30 secondi, io ci avrei messo due ore per dosare bene queste cose. Quindi, diciamo che il plug-in, devo dire che nonostante può sembrare una cosa veramente senza senso, in realtà ci porta al risultato che mi convince abbastanza. L'altra cosa bella, beh, come ho detto, chiaramente questi settaggi possono essere tutti cambiati, disattivati. Tutti questi processori in catena li possiamo spegnere uno a uno, li possiamo sentire in solo con questo tasto, li possiamo completamente togliere. E la cosa bella è che li possiamo anche miscelare col suono diretto. Quindi, ognuno di questi processori ha una funzione, tra virgolette, dry-wet, oppure parallelo. Quindi ci permette di, appunto, miscelare il suono processato con il suono non processato. Poi vedo che anche qui c'è un limiter che non l'ho approfondito bene, ma immagino che sia un classico limiter simile Brickwall. ALM, ok, autolevel. Questo penso che livelli la voce in base ai cambi di volume che ha. Altra cosa utile, ma di cui mi fiderei fino a un certo punto. E poi, altra cosa ancora più bella è che possiamo aggiungere altri effetti. Per esempio, un po' di saturazione, volendo. Ah, vediamo che la saturazione è anche molto interessante perché ha diversi tipi, quindi analog, retro, tape, tube, warm, decimate, distort. Proviamo tape. oddio, non è che mi fa proprio impazzire, però, ripeto, per avere tutti questi tool in un solo plug-in come saturazione ci può stare. E mi sembra che anche questa, sì, anche questa ha uno shelf che permette di tagliare alte, che può essere utile. Sentiamolo un attimo. Ok, devo dire che gioco un po' di taglio sulle alte e non mi dispiace, quindi anche questo niente male, poi anche questo si può miscelare con il suono non processato. Harmony, questo non mi è piaciuto, fondamentalmente traspone le note se non ricordo male, vediamo. Sì, traspone le note e permette di creare una sorta di coro, però non so se non mi è piaciuto o non l'ho capito bene, però mi dà idea che non è che azzecca proprio bene, voglio dire, almeno per come sono io che sono un po' purista delle voci, avere un pitch corrector così automatico non mi fa impazzire. Magari se vi piace ve lo provate, però non è proprio una cosa che cerco. Invece, un'altra cosa interessante è la possibilità di aggiungere anche un delay, quindi mettiamo caso che io qui nel mix originale mi ricordo che avevo messo uno slabback abbastanza corto a ripetizione singola. Vediamo come suona questo delay che ci fornisce il plug-in. There's a frozen block of glass that junk could make There's a frozen block of glass that junk could make There's a frozen block of glass that junk could make There's a frozen block of glass that junk could make Devo dire che pure il delay è interessante. Ripeto, sempre classico suono a izotop quindi proprio non è il massimo del calore però non è nemmeno pessimo come pensavo. Proviamo a tagliargli un po' di frequenze agli estremi There's a frozen block of glass that junk could make Sì, comunque alla fine non è male per niente nemmeno questo. Adesso proviamo a sentire tutto questo che abbiamo fatto con il resto del mix e vediamo di mettere la voce a un volume che ci piace e capire un attimo se effettivamente esce una cosa presentabile. There's a frozen block that junk could make Here's a powerful mind It's a catered bowie man Here's one She's a piece of gold We must not this time He's a flood Even if the stars Are beautiful tonight Even if the stars Are beautiful tonight Be, devo dire che comunque il risultato non è male per niente cioè se considerate che io in questo mix per processare la voce ci avrà perso almeno un paio d'ore e comunque sono abbastanza certo che se andate a sentire il prodotto finito che appunto ho linkato in descrizione non sarà così diverso devo dire che comunque il suo lavoro lo fa molto bene ripeto non mi fiderei ciecamente però è anche vero che ha fatto cose abbastanza semplici quindi cose che innanzitutto sono facili da comprendere tipo queste equalizzazioni qua sono semplicissime sono modificabilissime sono trattabili in parallelo col suono non equalizzato non processato il ds è settato molto bene il compressore è settato abbastanza bene riverbero e delay alla fine sono soprattutto le funzioni che hanno comunque è quasi impossibile non tirare fuori un suono che non sia decente anche se io personalmente preferisco suoni un po' più autentici un po' più caratteristici però comunque problemi a mixare con con questi se dovessi sbrigarmi avessi solo questo plugin proprio zero anzi starei pure bene in realtà quindi che vi devo dire per me il plugin è promosso non è una cosa da prendere come il sacro graal però comunque ripeto ci crea subito una catena che ci dà un'idea di quello che dovremmo fare alla voce adesso chiaro se cerchiamo un effetto un po' radiofonico un po' standard funziona se cerchiamo una cosa strana è chiaro che la voce ce la dobbiamo mixare da soli però comunque mettiamoci anche nella situazione in cui dobbiamo fare un bounce velocemente per un cliente oppure dobbiamo chiudere un mix a un budget ridottissimo e dobbiamo salvare il più tempo possibile diciamo che proiettato in questo tipo di situazioni sicuramente è un gran tool un'altra funzione interessante che ha che però sono mai entusiasmato è la funzione unmask questa unmask fondamentalmente che cosa fa diciamo che in caso avessimo il presentimento che qualche elemento del mix stia andando in conflitto con la voce possiamo utilizzare questa funzione unmask per minimizzare questo conflitto e fare in modo che la voce trovi il suo spazio trattando l'elemento che va in conflitto quindi non fa vedere quello che fa quando lo facciamo però immagino che vado a scavare delle frequenze o con un equalizzatore oppure con un multibanda sullo strumento che per noi crea conflitto in modo che la voce riesca a trovare più spazio per uscire fuori per esempio ipotizziamo che questa chitarra sentiamo tipo una chitarra e la voce ok in realtà qui ci sono due chitarre ma per semplicità adesso ne ho solo da una supponiamo che per noi questa chitarra abbia qualcosa che va in conflitto con la voce quello che dobbiamo fare è caricarci il plugin relay che è un plugin che comunica con Nektar e che cosa facciamo prendiamo la funzione unmask facciamo next ah scusate qui chiaramente se avete già fatto assist prima adesso non lo rifate fate solo unmask fate next e qua vi fa selezionare lo strumento che volete modificare per trovare più spazio per la voce quindi in questo caso scelgo il relay che è quello che ho caricato sulla chitarra next e ci chiede di mettere in play l'audio in modo che possa analizzare di nuovo tutto ok quindi secondo lui adesso ha trattato la chitarra in modo che la voce trovi più spazio però come dicevo vedete non è che fa capire più di tanto quello che ha fatto cioè questa è una sorta di tasto che si può bypassare e basta provo ad alzare un po' la chitarra in modo che capisco meglio se c'è qualche conflitto con la voce che ha veramente ridotto ok sì effettivamente ha fatto qualcosa non so se l'ha morbidita sulle medio-alte o l'ha semplicemente compressa e non so se l'ha compressa solo su una banda o totalmente ma immagino più solo su una banda quindi per dire che la mia ipotesi che quello che ha fatto è che o l'ha equalizzata riducendo una banda sulle medio-alte oppure ha compresso solo quella banda in modo che i picchi su quella frequenza siano meno violenti e fondamentalmente questo intervento permette alla voce di uscire di più però ripeto questa non è una funzione di cui mi fiderei pure perché boh sono cose che mi piace fare a orecchio quindi questa funzione per quanto comoda per me è bocciata perché non la vedo né come un risparmio di tempo e nemmeno come una cosa istruttiva da fare diciamo che bene o male era una rapida avventura per questo iZotop Nectar che tutto sommato mi ha convinto mi ha convinto perché ripeto ha tutti i tool che servono per trattare una voce molto bene e inserirla nel mix le dritte che dà sono molto belle oltretutto bello anche il fatto di poter scegliere il vibe quindi se più vintage più moderno bello anche il fatto che possiamo decidere tre livelli di aggressività quindi più gentile moderato o appunto aggressivo immagino che per una cosa tipo rock o metalcore se mettete modern e aggressive vi fa un lavoro molto più brusco ma chiaramente è un lavoro che così sarebbe richiesto dal genere quindi che dire onestamente penso che sia uno strumento che può far risparmiare tempo quando si affretta e può dare anche buone dritte quando si sta mixando seriamente quindi direi proprio che è promosso se avete domande o dubbi non esitate a chiedere oltretutto in descrizione vi lascio anche un link per acquistarlo con parecchio sconto mi sembra col 40% di sconto adesso non ricordo comunque se cliccate sul link vedete e niente sentite anche com'è appunto il pezzo originale ve lo lascio sempre in descrizione il brano degli One Morey appunto se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un bel like e magari di fare subscribe al canale direi che per oggi è tutto love